Dovevamo portare la democrazia, abbiamo portato le bombe, un sistema politico ancora instabile e un quadrante geopolitico che ancora oggi non è governato e forse non sarà per lungo tempo governabile. L'uscita estemporanea di alcune grandi democrazie europee e internazionali hanno provocato il dissesto e il disastro più totale. Oggi l'Iraq ma anche tutto il territorio limitrofo vive ancora una stagione di profonde tensioni e questo genere di tensioni si riverberano costantemente sull'Europa. Portare la democrazia presunta tale non è servito a nulla neanche in questo caso e ancora una volta l'Europa, gli Stati Uniti e i loro alleati non hanno imparato la lezione. Grazie.